Buongiorno a tutti, mi presento, anzi mi ha presentato l'amica Patrizia, mi chiamo Pasquale Bitondo, sono un segretario comunale, nello specifico sono il segretario generale della provincia di Ancona. Ho accettato di buon grado l'invito che mi ha rivolto Patrizia ad essere presente a questa giornata formativa, anche se io non mi reputo un docente essendo un segretario comunale, come tale la mia attività è quella di applicare gli istituti giuridici all'amministrazione proprio in relazione a quella che è la nostra funzione, che è quella di primi collaboratori dell'amministrazione. Il tema che mi è stato assegnato è molto vasto, è stato un tema, come diceva la dottoressa Schifano, responsabile del progetto, che avevamo già avviato nell'ambito del primo corso pilota per responsabile della prevenzione della corruzione, cioè come di fatto l'amministrazione ha coordinato questi due sistemi. Partiamo velocemente da come articolerò questa mia relazione. La mia relazione affronterà tre temi, innanzitutto il sistema di performance management della provincia di Ancona, come noi abbiamo costruito il sistema di performance management, come abbiamo impostato il piano triennale della prevenzione della corruzione e come da tre anni sostanzialmente, già prima dell'approvazione del PTPC, abbiamo iniziato il coordinamento tra questi due strumenti. Bisogna partire da un'analisi storica, nell'ultimo quinquennio, le pubbliche amministrazioni sono state interessate da una proliferazione di disposizioni legislative che hanno cercato di coniugare quelli che sono stati poi le due finalità del legislatore degli ultimi tempi, cioè coniugare i principi dell'efficienza dell'economicità con i principi sacrosanti dell'azione amministrativa. Abbiamo assistito infatti alla emanazione di provvedimenti in un certo senso collegati da queste due finalità, innanzitutto il decreto legislativo 150 del 2009, il vituperato decreto Brunetta che secondo me al di là della demonizzazione fatta nei confronti della pubblica amministrazione e dei pubblici funzionari, secondo me è una delle leggi più concrete che hanno cercato di riformare in termini di efficienza e di produttività la pubblica amministrazione e lo strumento per arrivare a questi obiettivi è appunto il sistema di performance management che non è scritto nel 150 premetto, ma si resume mediante un lavoro di estrapolazione dei principi e del loro adattamento all'organizzazione dell'ente. Nel 2012 abbiamo assistito all'emanazione del decreto legge 174 del 2012 che ha operato un restyling nel settore del sistema dei controlli interni e che ha portato noi tutti ad elaborare un sistema integrato dei controlli interni. Nel 2012 c'è stata la emanazione della legge 190, meglio nota come legge anticorruzione, la rubrica è proprio disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione su cui cercheremo di soffermarci. Sempre nel 2012 è stato emanato un decreto legge numero 5 del 2012 con il quale è stata prevista la istituzione da parte degli enti locali di un nuovo soggetto, il sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia, cioè il sostituto del responsabile del procedimento inadempiente. Che significa questo? Si è voluto implementare ulteriormente il principio di partecipazione all'attività della pubblica amministrazione mediante una sentinella che dovrà fare gli interessi dello stakeholder, del cittadino, del soggetto interessato qualora non riceva la risposta nei tempi. Poi ovviamente nel 2013 abbiamo assistito all'emanazione del decreto legislativo 33 che è stato sia emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 150, ma sostanzialmente ha rappresentato un restyling di tutte le disposizioni che erano diffuse nel nostro ordinamento in materia di pubblicità, di trasparenza e diffusione di informazioni. Come vi dicevo, questa legislazione si può catalogare secondo gli obiettivi in due branche, una branca che mira a perseguire obiettivi di politica aziendale, mi riferisco a 150 e anche a quella che era la filosofia imperante prima verso la fine degli anni 90, cioè si voleva che l'aziendalizzazione della pubblica amministrazione mediante il perseguimento di obiettivi di efficienza, di efficacità e di premialità, mettere a bando le bruttissime liquidazioni a pioggia della produttività, ma legare la produttività al merito e alla meritocrazia. Gli altri obiettivi perseguiti da questa legislazione erano quelli classici, quelli ispirati ai principi cardine dell'azione amministrativa, mi riferisco ai principi espliciti di buon andamento e imparzialità contenuti nell'articolo 97 della Costituzione e ovviamente al principio implicito di legalità che si resume dalla lettura del 97 della Costituzione. Il 150 quindi, il famoso decreto Brunetta, che cosa aveva perseguito? Innanzitutto l'ottimizzazione del lavoro pubblico, l'efficienza e la trasparenza dell'APA e questo si poteva ottenere mediante la creazione di un sistema di performance management. Il 174 ha, come ho detto prima, in pratica posto le basi per un sistema integrato dei controlli interni, la 190 interviene invece in un settore, quello della prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, mediante la creazione di un sistema integrato, nazionale e decentrato, di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità. Io corro un po' perché, come diceva la dottoressa Schifano, le slide sono quantitativamente numerose e cercherò in un certo senso di portare a termine il tema che mi è stato assegnato. Per quanto riguarda l'evoluzione del sistema integrato dei controlli interni, va detto che noi già prima del 2000, nel 1999, avevamo visto l'emanazione del decreto legislativo 286 del 99, che aveva in pratica già previsto nelle pubbliche amministrazioni degli strumenti di controllo interno per gli enti locali. A questo decreto era seguita nel 2001 la riforma del titolo quinto, approvata con la legge costituzionale numero 3 del 2001, che aveva abrogato il 130 della Costituzione e aveva abrogato anche i controlli di legittimità e di merito nelle province e nei comuni. L'articolo 30,4 del decreto Brunetta del 150 a sua volta aveva abrogato una serie di disposizioni del 286 che era rimasto mutilato, da qui la necessità con un intervento organico del legislatore effettuato con il decreto 174 del 2012, di procedere a un restyling dei controlli interni con inclusione di nuove tipologie. E questa slide vi dà l'idea di come si è venuto a creare, a costruire il sistema integrato dei controlli interni nel nostro ente. Il sistema integrato dei controlli interni si è consolidato e si è attuato mediante un apposito regolamento che tutte le amministrazioni hanno fatto e che ha visto nel sottoscritto segretario generale che poi per scelta dell'amministrazione è diventato un po' il collettore, il punto di riferimento dell'attuazione di queste disposizioni, il coordinatore del sistema integrato dei controlli interni. Per cui si è assistito ai tradizionali controlli interni del 286, quelli di regolità amministrativa contabile, controllo di gestione, controllo strategico e la valutazione della performance organizzativa individuale, ad altre forme di controllo. Il controllo degli equilibri finanziari della gestione, il controllo dello stato di attuazione di indirizzo gestionale, il famoso bilancio consolidato, il controllo della qualità dei servizi erogati che difficilmente e purtroppo non sta decollando nelle amministrazioni, lo dice anche la Civit a seguito di un monitoraggio, e il controllo sulle società partecipate. Questo sistema integrato dei controlli interni che nel nostro ente fa capo al segretario generale, viene affiancato dal controllo che il collegio dei revisioni di conti espleta come controllo di regolarità contabile. Per quanto riguarda il sistema di performance management della provincia di Ancora, bisogna partire storicamente da quelle che erano le finalità del decreto 150, il famoso piano industriale del Ministro. Si era all'epoca, nel 2008-2009, sollevato il problema della necessità di una correlazione tra il sistema di performance management e l'efficacia della pubblica amministrazione. Da parte del Ministro si era sostenuto infatti che un recupero di efficienza nella produttività pari almeno al 10% avrebbe comportato un incremento di due punti di PIL. Questa filosofia, questa finalità, questo obiettivo non era tutto sommato, era suffragato anche da ricerche empiriche e cito tra queste la ricerca compiuta dal professor Fabio Mondeduro, che molti di voi conosceranno, un valido ricercatore dell'Università Tor Vergata, il quale in un articolo pubblicato nell'azienda pubblica numero uno, aveva evidenziato proprio questa connessione, questa correlazione tra il sistema di performance management e l'efficacia della pubblica amministrazione. Vi proietto alcuni slide del professor Mondeduro. Il professor Mondeduro aveva verificato infatti che in ambito di crescita economica il nostro paese, azzurro lo vedete, l'Italia, era ben al di sotto della media dei paesi oxe e molto al di sotto di altri paesi. Noi eravamo in una fase quasi di stagnazione, eravamo al pari con la Germania, la Francia, la crescita economica non c'era. Al che si poneva questo problema? Crescita economica che cosa comporta? Comporta anche dei riflessi negativi sulla competitività paese e l'Italia la troviamo sempre come fanarino di coda appaiata alla Slovacchia, all'Ungheria, alla Polonia. Ma questo indicatore della competitività è stato paragonato da professor Mondeduro all'efficacia nel settore pubblico. Anche qui vediamo che l'Italia si colloca sempre tra i paesi che occupano le ultime posizioni. Quindi c'era una piccola crescita, c'era una piccola competitività, c'era una efficacia certamente non appagabile. Abbinando questi due indicatori di competitività ed efficacia vediamo che l'Italia si trova sempre nelle parti dei livelli più bassi. Da qui anche il collegamento fatto da Monteduro tra il sistema di performance management e l'efficacia della FIA. Non eravamo certamente tra i primi. Ecco perché in questo contesto è stato molto vituperato il decreto 150, però bisogna leggerlo con molta attenzione perché è una legge tra le più difficili e che effettivamente aveva una buona finalità, quella di dare maggiore efficacia alla pubblica amministrazione in un quadro di modernizzazione. Ma come doveva avvenire questo, come si doveva raggiungere questo obiettivo del sistema di performance? Come dovevano gli enti locali adeguare questi principi ai propri ordinamenti? A proposito io vi ricordo che lo strumento principe è il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che viene declinato al plurale dell'articolo 48 del testo unico degli enti locali, il quale parla appunto di regolamenti al plurale. Quindi regolamenti al plurale significa che regolamento di organizzazione, regolamento disciplinare, regolamento per gli incarichi vietati rientrano tutti nella grande famiglia dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. E quindi il sistema di performance non poteva essere altro che un regolamento inquadrabile nella famiglia dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. D'altra parte come doveva avvenire questo recepimento dei principi del 150 nell'ordinamento degli enti locali? La indicazione la davano tre articoli dei 74 contenuti del 150, tra questi ho preso il 74 il quale divideva i 74 articoli in tre famiglie, alcuni articoli erano configurabili come articoli inquadrabili nei livelli essenziali delle prestazioni nell'ordinamento civile, cioè potestà esclusiva dello Stato e come tale applicabile sic et simpliciter a tutti gli enti locali. Altri articoli invece erano inquadrabili nei principi riconducibili dall'articolo 97 della Costituzione che come tale necessitavano di un adeguamento nell'ambito degli ordinamenti. Gli altri articoli residui invece che trovavano applicazione per le altre amministrazioni potevano eventualmente essere recepiti nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle province dei comuni in base all'articolo 89 del testo pubblico. Che cosa è emerso quindi? Che dalla estrapolazione dei principi contenuti nei 74 articoli e catalogando queste funzioni che non ho messo in slide per non appesantire la relazione, di fatto le norme del 150 sono state catalogate in norme di diretta e immediata applicazione in quanto, come dicevo, rientranti nella potestà esclusiva dello Stato. Nelle norme recante principi cui gli enti devono adeguare i propri regolamenti e delle disposizioni non obbligatorie ma che la provincia nel caso nostro ha ritenuto di recepire ovviamente con l'ausilio di altre fondi quali le direttive e gli indirizzi del Lanci e del Lupi. Noi siamo una provincia e ci siamo molto rifatti a quelli che sono stati gli indirizzi a suo tempo forniti dal gruppo di lavoro del Lupi. Questa slide quindi vi dà l'idea sinteticamente di qual è stato lo studio propedeutico alla creazione di questo sistema in quanto il sistema è stato costruito mediante l'applicazione delle norme di diretta e immediata applicazione, le norme recanti principi, le norme non obbligatorie ma per le quali si è ritenuto opportuno applicarle e poi altri indirizzi presi da altre fonti. Come avviene quindi il sistema di performance management è come ho detto prima l'estrapolazione dei principi e l'articolazione in tre sottosistemi. Il 150 non parla di sottosistemi né parla di sistema di performance, è una come dire elaborazione dottrinaria che si resume appunto dall'applicazione pratica di questi principi e quindi da questa estrapolazione e la creazione di questi tre sottosistemi si può arrivare all'adattamento di questo sistema alle peculiarità proprie della provincia o del comune mediante la creazione del sistema di performance management. Ma vi dico questo, che significa sistema di performance management? Analizzando un po' i tre termini, vi dico questo perché è importante che focalizziamo i principi del sistema di performance, del piano della performance in relazione a quella che sarà l'ultima parte della mia relazione. Per sistema, secondo la teoria dei sistemi, per sistema si indende in pratica l'insieme di più soggetti che relazionano tra di loro, quindi non è la presenza di più sistemi, ma è la relazione che le varie parti hanno tra di loro. Per corruzione, adesso l'affronteremo, per management il termine di derivazione anglosassone deriva dal verbo to manage e ha un significato oggettivo e soggettivo nelle politiche economiche. Oggettivamente il management è in pratica la strategia aziendale, soggettivamente sono i manager, la direzione aziendale, i soggetti che attuano queste linee strategiche. Andando un po' invece sul concetto di performance, e qui bisogna sinceramente una domanda a cui io non ho saputo rispondere, il legislatore che in pratica poggia tutta la sua architettura giuridica su questo termine, dimendica o omette volutamente di non definirla. Ma questo purtroppo è una carenza del nostro legislatore, basti pensare che anche la legge 190, che appunto è rubricata come disposizione per la prevenzione e repressione della corruzione, dimentica oppure non vuole definire la corruzione. Quindi è l'interprete, la dottrina, sono le circolari che devono integrare queste carenze legislativi. Ebbene, questo è avvenuto anche sulla performance. Performance è un termine polisemico, dice la Civit, deriva dal francese performant ed è un termine intraducibile, per cui è stata la Civit con le parole chiave a definire che la performance è il contributo che un soggetto apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi, miranti, si va di bene, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita, perché un'organizzazione in un ordinamento appunto a democrazia indiretta è sostanzialmente portavoce, secondo principi non di rappresentanza, ma di rappresentatività, è portavoce di questi bisogni che vengono poi interfacciati e vengono portati alla dignità di obiettivi. Quindi se la performance è il contributo che un soggetto o un'organizzazione dà alla soddisfazione dei bisogni, ovviamente come processo è suscettibile di rappresentazione ed è suscettibile di essere misurata e valutata. Questa slide mi ha dato proprio l'idea di configurare la performance come un kaleidoscopio, cioè sostanzialmente un oggetto dalle varie sfaccettature, perché ci sono varie sfaccettature del concetto di performance. La performance individuale è il contributo che il singolo individuo dà alla struttura. La performance organizzativa, che in pratica è la performance più qualificante in una situazione di gerarchia, la performance organizzativa è quella a cui bisogna dare maggiormente importanza, perché mira sostanzialmente a verificare la efficienza e la efficacia di una pubblica amministrazione nell'ambito anche di una operazione di benchmarking di confronto con altre pubbliche amministrazioni. L'ampiezza della performance invece fa riferimento alla dimensione orizzontale, cioè l'input, i processi, l'output o l'outcome. La profondità fa riferimento alla strategia della politica pubblica, mediante uno strumento verticale che declina la politica pubblica in livelli di programma, a livelli organizzativi e a livelli individuali. La performance quantitativa riguarda gli obiettivi, la performance qualitativa riguarda invece il come, gli atteggiamenti, i comportamenti, le capacità manageriali. Vi dico subito che nell'ambito del sistema c'è questa gerarchia che vede al primo posto la performance organizzativa e al secondo posto la performance individuale. Nell'ambito della performance individuale ovviamente gli obiettivi di performance individuale hanno la prevalenza in termini di misurazione e valutazione rispetto ai comportamenti e agli atteggiamenti. Ma questo perché? Perché il legislatore proprio nell'ottica di questa efficienza aveva ritenuto di evidenziare che allo stakeholder, cioè all'utente finale, non interessa avere il bravo dirigente, quando semmai i risultati non vengono raggiunti. Secondo la filosofia del piano industriale, la filosofia era quella di dire che bisogna che la pubblica amministrazione si qualifichi per il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa che caratterizzano quell'ente, piuttosto che dire che ho dei bravi dirigenti ma purtroppo non riescono a raggiungere i risultati. Il sistema quindi di fatto, proprio perché abbiamo detto che la performance è un strumento che dà la possibilità di misurare, valutare, premiare le buone performance e rendere visibili, sostanzialmente aveva configurato tre sottosistemi, un sistema di misurazione e valutazione della performance, un sistema di premialità, misuro gli obiettivi, li valuto e do i premi e poi comincia ad albergare e a consolidarsi il principio della trasparenza e dell'integrità mediante gli strumenti della contability, cioè il dare conto allo stakeholder che il proprio bisogno è stato soddisfatto, la rendicondazione e il benchmarking, come dicevo, il confronto tra più amministrazioni proprio per verificare se la mia amministrazione, riferita all'amministrazione del cittadino è migliore rispetto ad altri. Quindi un sistema integrato articolato in tre sottosistemi. Per quanto riguarda questo, come dicevo, il sistema per essere sistema deve fare in modo che gli elementi interagiscono, altrimenti non è un sistema, è un insieme. e allora, e qui mi permetto di fare una piccola considerazione, e qui entra in campo il ciclo di gestione della performance che non è in pratica l'elemento fondamentale del 150, in quanto l'elemento fondamentale è il sistema di performance management, ma il ciclo di gestione della performance si deve considerare come la benzina nel motore, cioè sostanzialmente è un processo che dinamizza e rende, come dire, mobile, dinamico il sistema. Il ciclo di gestione della performance, come vedete da questa slide, nel colore viola, sostanzialmente che cosa fa? Attiva il sistema di performance management, il quale a sua volta attiva il sistema di misurazione e valutazione della performance, lo SMIVA, il quale attiva il sistema della premialità e alla fine attiva il sistema della trasparenza e dell'integrità. In contemporanea attiva il nuovo sistema integrato dei controlli interni. Questa slide è una delle più difficili che ho cercato un po' di elaborare per renderci un po' conto della complessità del ciclo di gestione della performance. Come vedete si applica col 150 il ciclo delle policy, il ciclo che in pratica è previsto nei documenti di strategia aziendale. Vediamo l'amministrazione presso cui noi lavoriamo che assume il ruolo di policy maker, cioè colui che approva le strategie politiche, ma come le approva queste strategie? Interfacciandosi con gli stakeholder, intercettando i bisogni degli stakeholder. Ho messo su in giallo la VEA, la valutazione ex-ante, che è una valutazione a cui noi italiani non siamo abituati, nel senso che è uno strumento che si sta attuando in America e che riguarda una valutazione preventiva del rapporto costi-benefici. Vi voglio fare un esempio banale, nel 2001 ci furono, ricorderete, le elezioni politiche, ebbene il nostro legislatore in un'ottica di contenimento della spesa ebbe la felice idea che il nostro legislatore di concentrare nella sola domenica del 13 maggio, riduciano, c'erano delle file chilometriche e molti non votarono, ma non è che dobbiamo andare al 2001, basti pensare anche alla riforma che ha prodotto gli esodati e, scusate la lingua batte dove il dente duole, pensiamo alla riforma delle province che stiamo vivendo sulla nostra pelle, in quanto fatta una legge bisogna necessariamente valutare gli effetti in termini non solo di effettività, ma anche in termini di raffronto e di rapporto costi-benefici. Allora vi dicevo, la vea, per usare una metafora, Montaigne diceva che gli abitanti della traccia, quando dovevano attraversare un fiume gelato, mandavano avanti una volpe, perché la volpe riusciva ad individuare se il ghiaccio reggeva o non reggeva, e quindi questa come metafora è la valutazione ex-ante, cioè cosa che noi dobbiamo fare, cioè non è che io intercetto un bisogno e quel bisogno lo faccio diventare obiettivo, devo valutare anche se quell'obiettivo è fattibile, perché non è esclusa l'opzione zero, cioè che quell'obiettivo, quel bisogno non diventerà mai obiettivo, ma se supera questa valutazione costi-benefici, il bisogno entra, grazie al policy maker, negli obiettivi strategici che sono contenuti nella mission dell'ente, nel programma di mandato, ovvero negli strumenti di programmazione finanziaria. Inizia qui la negoziazione con i dirigenti per cercare di assegnare l'obiettivo e negoziare in relazione alle risorse umane e finanziarie. Se l'obiettivo è fattibile e questa negoziazione ha avuto degli effetti positivi, questi obiettivi vengono inseriti nel piano della performance che come vedete con la freccia rossa va già ad intercettare il sistema di trasparenza e di integrità e viene data comunicazione allo stakeholder che quel suo bisogno è diventato obiettivo. Inizia quindi un percorso relativamente a questi obiettivi che possono essere diventati obiettivi di performance organizzativa o obiettivi di performance individuale. Inizia un percorso di attuazione perché il ciclo di regola ha valenza annuale anche se il piano della performance potrebbe avere valenza tennale ma questa è una di quelle disposizioni che non si applica alle pubbliche amministrazioni. Inizia la fase di monitoraggio. La operazione del monitoraggio e di supporto al policymaker è compiuta dall'OIV. Noi come provincia di Ancona non abbiamo fatto uso dell'OIV per una precisa scelta del mio ente, della mia amministrazione, di creare un organismo misto che fosse presieduto dal segretario generale come figura di trade union tra la struttura dirigenziale e i componenti esterni. Questo proprio per cercare di superare il problema dell'articolo 14 del 150 che appunto aveva prescritto che non potevano far parte dell'OIV nei segretari e nei direttori generali. Quindi il nostro organismo che abbiamo chiamato con un po' di fantasia NIVAP, Nucleo Indipendente di valutazione della performance e questo è un aspetto di sperimentazione che noi abbiamo fatto ed è andato molto bene. Cioè sostanzialmente abbiamo assegnato al NIVAP le funzioni dell'OIV ma senza legarci molto alla rigidità dell'OIV per i noti rapporti con la CV tipo per esempio l'autorizzazione alla nomina dei suoi componenti. Quindi il NIVAP che cosa fa? Inizia nel corso dell'anno il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati al percorso personale dirigenziale e si possono verificare due situazioni, che l'obiettivo vada bene o che l'obiettivo invece comincia a zoppicare. In questo caso abbiamo previsto nel nostro sistema di performance management due istituti, l'intervento correttivo e la variazione, tenendo presente che l'intervento correttivo fa parte di quelle norme che sono applicabili a noi i commenti locali, le variazioni invece si applicano agli organi dello Stato e qual è la differenza tra gli interventi correttivi e le variazioni, è una differenza sostanziale, perché l'intervento correttivo mira a salvare l'obiettivo, visto che l'obiettivo nasce dalla negoziazione tra l'amministrazione e lo stakeholder. Invece la variazione sostanzialmente mira a sostituire l'obiettivo mediante una sua sterilizzazione, perché semmai è cambiata una situazione di contesto e quindi ovviamente interveniamo in questo, si interviene in questa maniera, ci siamo trovati per esempio un obiettivo non raggiunto anni fa per una forte nevicata che ci ha costretti necessariamente a sterilizzare quell'obiettivo precedentemente assegnato e dopodiché abbiamo provveduto. Superato il monitoraggio si arriva, ci si interfaccia di nuovo con lo SMIVAP, il sistema di misurazione e valutazione, nella fase però non già della misurazione, ma della valutazione, con una valutazione ex post che porterà in pratica alla attribuzione con il terzo sistema, quello della premialità, dei premi e della produttività. Il sistema, una volta assegnati i premi, si ritorna allo stakeholder con il sistema di trasparenza e di integrità con la relazione consultiva della performance che viene approvata dall'amministrazione e validata dal nucleo di valutazione. Quindi un sistema che ha trovato attuazione mediante l'adeguamento degli strumenti in uso, gli strumenti di livello strategico, il programma di mandato, il piano generale di sviluppo, la relazione previsionale e programmatica e gli strumenti di livello operativo, piano esecutivo di gestione, piano della performance, controllo di gestione e SMIVAP. Il coordinamento degli strumenti in uso con gli strumenti del 150 ha portato sostanzialmente a una fusione tra gli strumenti di programmazione finanziaria che sono previsti nel Tuel e negli strumenti di performance management del 150 con una fusione del PEG-PDO nel PEG-PDP, piano della performance. Il sistema di misurazione e valutazione della performance è rappresentato da questa slide dove lo SMIVAP si interfaccia con la performance organizzativa che è mirante al perseguimento di obiettivi strategici, il cosiddetto outcome, e alla performance individuale con obiettivi individuali e comportamenti e capacità che riguardano un po' le capacità del dirigente. Il NIVAP vi ho accennato qual è stata la nostra soluzione, un organismo in sostituzione dell'OIV a composizione collegiale mista con il compito di monitorare il funzionamento del sistema e con un ruolo di supporto e di validazione. Gli strumenti in gioco sono il piano della performance che ritroveremo nel coordinamento, la relazione consumativa sulla performance che in pratica chiude il ciclo e il sistema di misurazione e valutazione che in pratica occupa lo spazio intermediario tra il piano della performance e la relazione consumativa della performance. Per la premialità voi sapete che erano stati previsti degli istituti di incendivazione monetaria organizzativa e il tutto poi è stato congelato dal decreto 78 del 2010 che è stato, come dire, anche con il blocco della contrattazione è stato reiterato fino ai giorni nostri, quindi non ne parliamo. Invece un'importanza di rilievo anche per quello che è avvenuto con le legislazioni successive è stato il sistema di trasparenza e di integrità. La trasparenza aveva fatto il suo ingresso in campo già con l'articolo 7 della 142, quando si riconosceva un pallido tentativo diritto di accesso ai cittadini, un diritto di accesso che poi si è consolidato e strutturato con la legge 241 che addirittura aveva modificato l'articolo 15 del DPR numero 3 del 57, il quale per l'appunto aveva fissato la regola del segreto e l'eccezione nella trasparenza e nell'accesso. La trasparenza viene qui considerata per la prima volta come accessibilità totale delle informazioni concernente ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti strategici e gestionali, delle risorse in media impiegate e dei risultati. Si affaccia all'integrità, che cos'è l'integrità? C'è l'alfa privativo, deriva dal latino in pratica, è l'essere integro, non essere stato scomposto e come sinonimo fa riferimento alla correttezza, alla legalità e alla conformità principi etici e mira l'integrità al buon andamento dell'azione amministrativa, siamo nel campo della deontologia e non nel campo del giuridico. Trasparenza e integrità però insieme, abbiamo detto, formano il terzo sistema, sottosistema del sistema di performance e di fatto consentono per la prima volta con l'articolo 11 del 150, il favorire forme diffuse di controllo sociale nel principio, introducendo in Italia quei principi di stampo anglosasso nei quali l'open government, il governo aperto e il freedom of information act, cioè il FOIA, cioè l'atto per la libertà di informazione. Allora, come vi ho detto quindi, è necessario ed era necessario che io vi facessi questa panoramica del sistema di performance management perché questi elementi, il piano della performance, gli obiettivi e tutti, scusate, non so che è successo, non riesco, ecco, sono ritornato. Dicevo, era necessario fare questa analisi propedeutica proprio perché, ripeto, noi troviamo sia principalmente nella terza parte la necessità di questi strumenti che nascono dal sistema di performance management, ma non solo nella terza parte con la delibera Civit numero 6 del 2013, ma la troviamo addirittura come principi e nucleati in più parti, in più triennale di prevenzione della corruzione. Come nasce il sistema di corruzione? Il sistema di corruzione, di prevenzione della corruzione nasce sostanzialmente a livello internazionale, per effetto della Convenzione dell'ONU che era stata approvata con risoluzione numero 58 barra 4 del 31 10 93 che lo Stato italiano aveva firmato nel 2003 ed era stata ratificata con legge nel 2009. Il sistema nasce anche dalla Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 99, ratificata con legge 112 del 2012. Noi abbiamo anche, come dire, dato attuazione ad una serie di sollecitazioni che ci venivano da parte di organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, come il greco, la World General Bank e l'OXE. A livello nazionale, se questo era in pratica il sistema a livello internazionale, gli obiettivi prefissati da queste disposizioni a livello internazionale, c'erano però delle, come dire, a livello nazionale si è creato un sistema organico sia a livello nazionale che a livello decentrato. Le fondi sono 190, la legge 190, il PNA per livello nazionale e il PTP c'è a livello vicinale. Ma la primaria finalità di questi due livelli è quella di arrivare al risk management, cioè in pratica a declinare l'analisi del rischio mediante mappatura di aree, di processi e rischi e mediante valutazione e trattamento del rischio, cioè mediante l'applicazione pedissequa di misure e di prevenzione obbligatorie o ulteriori ai rischi che vengono censiti. Gli artefici sono stati il comitato a livello nazionale, il comitato interministeriale, il dipartimento della funzione pubblica e la Civit che oggi si chiama ANAC, che come voi sapete ha approvato il piano proposto dal dipartimento di funzione pubblica con deliberazione numero 72 del 2013. La Civit non ha avuto un percorso sereno, questa slide vi dimostra come in pratica nata con l'articolo 13 del 150 come commissione indipendente per la valutazione dell'integrità e la trasparenza, alla fine si è in pratica fatta carico anche di seguire le norme relative alla prevenzione della corruzione, per cui c'è stata una funzione nel senso che la Civit è diventata anche autorità nazionale anticorruzione deputata alla valutazione dell'integrità e alla trasparenza. Con un successivo provvedimento nel 2013 le competenze dell'ANAC in materia di performance sono state attribuite all'ARAN e le competenze in materia di qualità dei servizi al dipartimento di funzione pubblica. Nel 2014 con il decreto legge 90 l'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici è confluita nell'ANAC. Recentemente il dipartimento di funzione pubblica ha attribuito all'ANAC le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e le funzioni in materia di trasparenza, quindi oggi l'ANAC svolge proprio tutte queste funzioni. Ora, come vi dicevo prima, il legislatore della legge 190 dimentica di definire la corruzione come il legislatore del 150 aveva dimenticato di definire la performance. Quindi il concetto di corruzione che è alla base della 190 noi la deduciamo da altre fonti. Innanzitutto dal circolare del dipartimento della funzione pubblica numero 1 del 25 gennaio 2013, dal rapporto della commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione e nel PNA. Quali sono i concetti di corruzione che vengono come dire perseguiti in termini di prevenzione e repressione da parte del nostro legislatore, da parte di noi operatori a livello decentrale? Innanzitutto non è la concezione di corruzione come viene definita a livello penale. La corruzione, e vi spiegherò tra poco il perché, viene definita secondo varie definizioni, ad esempio strumentalizzazione dell'azione amministrativa, maladministration, abuso del potere al fine di ottenere vantaggi privati, uso a fini privati o anche pubblici delle funzioni attribuite, inquinamento ab externo dell'azione amministrativa, anche se questa non ha successo. Quindi come vedete la legge di prevenzione e repressione della corruzione non è una legge penale e voi tutti lo sapete perché siete operatori negli enti locali, ma è una legge che è finalizzata a contrastare il malcostume amministrativo e se questa è la legge, legge di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione, mi permetto di dire che forse avrebbero fatto meglio, avrebbe fatto meglio il nostro legislatore ad invertire i termini contenuti nella rubrica, andeponendo il concetto di illegalità a quello di corruzione, perché se lo spirito della legge 190 è quella di sconfiggere e prevenire l'illegalità, lo scopo è proprio quello che poiché l'illegalità è l'anticamera dell'anticorruzione è necessario prevenire e reprimere l'illegalità, non la corruzione, perché noi nell'ambito delle nostre modeste competenze come RPC o come operatori, come referenti del piano anticorruzione, certo non andiamo a perseguire la corruzione, c'era già il 358 del codice di posizione penale che diceva che il pubblico ufficiale che ha notizia di un reato ne deve dare notizia senza ritardo all'autorità giudiziaria. Ma qual è la vera raccia? Abbiamo visto la Convenzione ONU, la Convenzione di Strasburgo eccetera, ma qual è il fondamento giuridico della legge 190? Anche questa non è stata approfondita. Il fondamento giuridico della legge 190 va ricercato nella legge 234 del 97 che ha riformato l'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio. Vi invito, credo che molti di voi sono anche colleghi, a raffrontare il vecchio testo del 323 del codice penale e il nuovo testo dell'abuso d'ufficio che è stato ridisegnato dalla legge 234. Il vecchio testo era una scatola vuota sostanzialmente, infatti chi era quando si incorreva nell'abuso d'ufficio? Si incorreva quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, sottolineo il non, non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio. In pratica la scatola vuota era quella che nell'esercizio della funzione il pubblico ufficiale, qualora arrechi un ingiusto vantaggio non patrimoniale, ovvero arreca un danno ingiusto, ricorre nella fattispecie dell'abuso d'ufficio. Da qui la necessità da parte del legislatore di circoscrivere questo reato dando dei confini più netti, proprio perché di fatto in questa scatola vuota erano rientravano un po' tutte quelle attività amministrative caratterizzate da discrezionalità e voi tutti sapete che la discrezionalità amministrativa sfocia spesso nell'eccesso di potere per sviamento, quando l'interesse pubblico viene assecondato all'interesse privato e quindi era facile nel rilascio di un'autorizzazione o di una concessione individuare una forma di abuso che dava la possibilità al giudice penale di sovrapporsi e di indagare, anche se poi la maggior parte di questi reati venivano archiviati. Con la legge 234 invece che cosa si è avuto? Si è avuto come dicevo una definizione netta dei confini dell'abuso e si è detto testualmente che fermo restando i due soggetti, cioè il pubblico ufficiale o l'ingaricato di un pubblico servizio che esercita la funzione pubblica, occorre innanzitutto che ci sia una violazione di una norma di legge o di regolamento, ovvero che ci sia l'obbligo di astenersi che non viene osservato e quando intenzionalmente si procuri ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, non patrimoniale, è un danno ingiusto. L'analisi di questa disposizione porta innanzitutto a evidenziare nel rapporto di causalità che ci deve essere la violazione di una norma di legge o di regolamento, la Cassazione ha detto che la violazione di una norma di regolamento non deve essere riferita a una norma strumentale tipo per esempio la partecipazione al procedimento, il mancato esame delle osservazioni, ci deve essere una legge o un regolamento che hanno una natura precettiva, non bisogna rifarsi i principi del buon andamento, dopodiché hanno stato introdotto il dolo intenzionale, il rapporto causa-effetto e gli eventi sono l'ingiusto vantaggio patrimoniale, scompare l'ingiusto vantaggio non patrimoniale e il danno ingiusto che potrebbe essere anche patrimoniale o non patrimoniale, quindi in esso di causalità tra il comportamento, la volontà e gli eventi, mi direte voi, ma questa disquisizione di carattere penale in una relazione sull'anticorruzione a che serve? E ve lo spiego subito, ve lo spiego perché in pratica l'abuso d'ufficio, così come era stato formulato prima della riforma della legge 234, accomunava anche situazioni di malcostume che non avevano necessariamente rilievo penale, ma la cui definizione veniva in pratica affidata al giudice penale, con questa disposizione invece, circoscrivendo l'ambito del reato a una precisa fattispecie penale, rimane fuori la zona grigia del malcostume e quindi quando fu approvata per la legge 234, la legge questa legge, io ho avuto la benignità di andare a vedere gli atti, i relatori dicevano adesso ci si aspetta dall'ordinamento in pratica il ricorso a strumenti idonei per fronteggiare il malcostume amministrativo, la dottrina era stata molto perplessa su questo, siamo stati ad aspettare 16 anni ed ecco che dopo 16 anni è arrivata la legge anticorruzione, quindi quando noi parliamo di maladministration, parliamo di corruzione amministrativa, parliamo di strumentalizzazione, ricordiamoci sempre che siamo nell'ambito sempre della prevenzione di comportamenti che non sono non solo in pratica legali, non sono illeciti, siamo in una via di confine a metà tra la legalità e la illeicità, ma siamo anche nell'ambito di un clima che secondo le finalità della 190 è il clima della integrità, è il clima sostanzialmente della correttezza e dei principi che sono sostanzialmente declinati dall'articolo 54 della Costituzione che sono i principi poi del dovere di fedeltà e del servizio alla nazione. Lo strumento principe a livello nazionale è il PNA che come vedete in pratica si compone di tre sezioni, la prima, ma questo voi lo sapete, gli obiettivi strategici e le azioni previste da implementare, la sezione 2 che è quella che interessa a noi e che contiene in pratica la strategia di prevenzione a livello di ciascuna pubblica amministrazione contenendo anche le direttive per l'applicazione delle misure di prevenzione. e la sezione 3 che contiene l'indicazione circa le comunicazioni. Nella sezione 2 troviamo di fatto 5 allegati di cui il principale è la indicazione per la predisposizione del PTPC, credo che noi tutti ci siamo adeguati a queste direttive, gli altri allegati ci aiutano invece a individuare le misure di prevenzione e in particolare la analisi e la valutazione dei rischi. Quindi il nostro PTPC, il nostro come credo anche il vostro, in pratica si compone di elementi essenziali, gli elementi essenziali sono quelli che sono circoscritti da un bordo azzurro e infatti innanzitutto i soggetti istituzionali, abbiamo una serie di soggetti istituzionali dove faccio della slide, il piano, il programma triennale di trasparenza e integrità che è elemento sostanziale ed essenziale nel nostro PTPC e la parte seconda. Il risk management è la finalità principale della legge 190 e in pratica è la individuazione dei rischi che devono essere mappati, analizzati e fronteggiati con adeguate misure, vado sotto, misure di prevenzione obbligatorie ulteriori. Un altro elemento essenziale del PTPC è il coordinamento con il ciclo della performance, la relazione consultiva della performance, l'implementazione e il miglioramento, l'aggiornamento annuale mediante monitoraggio deve portare a implementare e ammigliorare il PTPC, c'è anche la vigilanza sugli endi e le società controllate che noi abbiamo circoscritto agli endi sui quali noi abbiamo una partecipazione non inferiore al 20% e vi ho messo in rosso il codice di comportamento e l'integrity management. Quindi questi sono, quelli in azzurro, sono i contenuti essenziali, minimi che un PTPC deve avere, d'accordo, ma la deliberazione Civit numero 75 ha ritenuto che anche il codice di comportamento deve diventare elemento essenziale del PTPC. Nel nostro aggiornamento, infatti, che stiamo elaborando anche in relazione al periodo non certo tranquillo che stiamo vivendo qui nelle province, il PTPC assorgerà alla dignità di elemento essenziale del piano, ma noi andremo anche a prevedere, tra le misure ulteriori, il cosiddetto integrity management. Che cos'è questo integrity management? L'integrity management in pratica è l'applicazione di istituti che hanno, sono stati, come dire, sono stati, stavo cercando il titolo, ecco, sono stati, sono contenuti in un documento OX del 2009 dal titolo Towards the Sound Integrity Framework, che significa verso un quadro solido di integrità, strumenti, processi, strutture e condizioni di attuazione, perché ripeto, tutta la legislazione, la strategia di prevenzione della corruzione mira essenzialmente a questo, e cioè mira a inculcare nelle amministrazioni i principi dell'etica, i principi dell'integrità. Guardate che in America ho letto che ci sono proprio delle società che si stanno specializzando a livello aziendalistico nell'integrity management, nel senso che in un periodo in cui l'azienda teme molto di vedere adombrata la propria immagine proprio da questa demonizzazione che sono tutti corrotti, si sta cercando un po' di caratterizzare la politica aziendale in termini di integrità e questo dice l'Ocse, deve essere fatto anche a livello di soggetti pubblici e come può essere fatto? Può essere fatto mediante la creazione di un clima etico, mediante la creazione di una leadership etica, secondo il modello anglosassone del role modeling, cioè dell'essere esempio per tutti, mediante proprio il rafforzamento dello spazio etico. C'è un integrity management da attuare mediante l'applicazione di un percorso di approccio alle regole e un percorso di approccio ai valori, non basta più il rispetto della regola, ma bisogna inculcare i valori. Consentitemi questa parentesi. Io ricordo quando avevo qualche anno di meno e le mie figlie frequentavano la scuola elementare, che cominciavano nelle scuole a diffondere la cultura del recupero e dei rifiuti differenziati. Ricordo che mia figlia Fabrizia portava con sé una bustina di plastica dove metteva le carte delle caramelle. Io dicevo papà ma tu non potrai salvare il mondo. Ebbene dopo 30 anni noi siamo arrivati, almeno parlo nella città dove io abito a Porto San Giorgio, siamo arrivati alla raccolta differenziata porta a porta. Cioè ogni giorno con una collaborazione del cittadino e dell'amministrazione noi siamo riusciti ad applicare questo sistema della raccolta differenziata, per cui un giorno si deposita la plastica, un giorno si deposita la carta, un giorno l'indifferenziato eccetera. Allora la filosofia di questa legge è proprio questa. bisogna cominciare a seminare oggi il seme della integrità, perché certamente non noi, ma sicuramente i nostri figli o chi verrà nelle prossime generazioni potrà trarre gli effetti. Quindi è questa anche l'importanza di recepire nei nostri PTPC l'indirizzo dell'Ocse sull'integrity management. E vi posso dire che l'integrity management, ve lo farò vedere dopo, in pratica non riguarda solo i dipendenti che hanno un codice secondo un approccio alle regole e quindi i dipendenti dovranno avere anche un approccio ai valori, ma riguarda paradossalmente i nostri amministratori, perché i nostri amministratori essendo funzionari onorari rientrano nella casistica di quei soggetti che non sono destinatari del codice di comportamento approvato con il DPR numero 62. Però devo spezzare una lancia a favore della mia Presidente, la quale, voi sapete che le province sono state rinnovate nei loro organi con la riforma del Rio e sono oggi di fatto la maggior parte sindaci. Ebbene, la mia Presidente all'indomani del suo insediamento ha accolto con piacere la mia sollecitazione ad adottare un codice di etico e in pratica lei ha aderito alla carta di avviso pubblico, la carta per il buon governo e la buona amministrazione e l'ha fatto volontariamente chiedendo poi agli altri amministratori di dire sostanzialmente chi vuole aderire lo faccia come scelta volontaria. E in pratica noi creeremo nell'ambito dell'aggiornamento e delle modifiche al PTPC, nell'ambito di quella implementazione e miglioramento che è un elemento essenziale, questo richiamo all'integrity management. I soggetti che operano nell'attuazione sono vari, dall'autorità di indirizzo politico al responsabile della prevenzione della corruzione, ai referenti, ai dirigenti, ai nuclei di valutazione, all'ufficio per i procedimenti disciplinari, ai dipendenti e ai collaboratori di qualsiasi titolo. C'è stata una polemica all'indomani dell'entrata in vigore della legge 190 e si è posto il problema di individuare il soggetto deputato ad nominare il responsabile della prevenzione della corruzione e ad approvare il PTPC. La Civit emanò una circolare, la numero 15 del 2013, dove testualmente diceva che il titolare del potere di nomino del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo comune nell'esercizio della pre-autonomia normativa e organizzativa riconosca l'aggiunta al Consiglio a diversa funzione. Allora io vi dico francamente come segretario, come operatore, io questa circolare, questa direttiva l'ho accantonato perché il problema è giuridico, qui non stiamo parlando di incarico, qui stiamo parlando di funzione, non è un incarico di responsabile, è una funzione e come tale non può essere inquadrabile nell'articolo 50 del testo. Per questa ragione, questa funzione chi la dà al segretario, la dà la legge per cui il provvedimento di nomina, come dice la CIVIC, qualora lo facesse il capo dell'amministrazione, avrebbe un'altra finalità, non sarebbe un provvedimento costitutivo, ma un provvedimento dichiarativo che accerterebbe innanzitutto il possesso delle condizioni di compatibilità e candidabilità a questa carica. In secondo luogo ci sarebbe anche l'applicazione di una data certa a questa funzione. Per quanto riguarda invece la facoltà di ricorrere a un'altra espediente, cioè quello di individuare un altro soggetto, in questo caso dovrebbe entrare in ballo il Consiglio provinciale, non l'aggiunta come molti hanno fatto, perché è vero che la legge 190 parla di organo di indirizzo di indirizzo politico, ma la circolare ha allargato questa dizione, la circolare del dipartimento della funzione pubblica parlando di organo di indirizzo e controllo politico amministrativo. Organo di indirizzo e controllo politico amministrativo che è il Consiglio, quindi il Consiglio entra in ballo nel momento in cui si decide discrezionalmente di far uso di quella facoltà che non vuole riconoscere la funzione in capo al segretario comunale generale, analogamente dovrebbe essere il Consiglio perché non è pensabile che sia l'aggiunta, stiamo parlando di strategie di prevenzione della corruzione a livello nazionale, a livello decentrato e questo è uno strumento strategico come tale inquadrabile negli strumenti strategici che sono approvati dal Consiglio in base all'articolo 42. Non credo di essere una voce forse isolata in questo sentiero, però la scelta che noi abbiamo fatto nel Ptpc è conforme a quello a cui vi accennavo precedentemente. Qui vi ho detto appunto quello che noi abbiamo fatto, in pratica il capo dell'amministrazione che nomina il segretario al fine di dargli data certa e accettare il possesso dei requisiti, il Consiglio solo in via riservata. Questo piano, il piano triennale di prevenzione della corruzione fa sentire i suoi effetti sulla strategicità dell'organizzazione, si è di fatto, scusate la metafora, si è creata di fatto un'articolazione copernicana, nel senso che il responsabile della prevenzione della corruzione che è in pratica il meccanismo che fa girare tutto il sistema, attrae nella sua orbita tutti gli altri soggetti, per cui si viene a creare una collaborazione secondo un meccanismo di bottom up, cioè dal basso verso l'alto, sono in pratica i soggetti che portano al responsabile quelle che sono le criticità, ovvero le sollecitazioni nell'attuare il piano. Il responsabile come funzione fondamentale propone il piano all'organo di indirizzo, procede alla sua verifica e propone le modifiche e l'aggiornamento. L'organo di indirizzo politico che nel nostro Ptpc è stato individuato nel Consiglio provinciale, invece adotta il piano e fornisce gli indirizzi all'aggiunta che entra in campo, noi non abbiamo più l'aggiunta, abbiamo il Presidente come organo di governo, entra in campo e attua gli strumenti. Gli strumenti per intercettare i rischi e per combattere i rischi sono le misure di prevenzione della corruzione, quelle obbligatorie previste per legge, quelle ulteriori e quelle trasversali qualora abbraccino più settori. Andiamo un po' al clou di questa relazione. Il coordinamento tra i due sistemi è un coordinamento che è previsto non solo nel PNA, in vari paragrafi, io ho cercato un po' di elencarli ma mi sono reso conto che avremmo occupato un po' di slide ed è stato anche oggetto in una parte della deliberazione Civitac-Nac numero 6 del 2013. Il piano, infatti, il piano nazionale anticorruzione ha previsto proprio questo coordinamento del sistema di performance management e del ciclo con il piano triennale della prevenzione e con gli strumenti di contrasto della corruzione, focalizzando proprio questa attinenza tra il sistema di performance management e il ciclo di gestione della performance con le tematiche della legalità, dell'anticorruzione e della trasparenza. Quindi siamo partiti dal PNA ma non è solo il PNA la fonte, c'è la famosa delibera Civit numero 6 del 2013 che contiene le linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità del 2013, c'è la delibera Anac 50 che contiene le linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza, c'è il nostro PTPC come c'è anche il vostro PTPC, c'è il programma triennale della trasparenza e integrità che ogni ente ha adottato e ovviamente gli strumenti operativi per attuare questo coordinamento che si ravvisano nel piano della performance. Ma andiamo adesso agli aspetti di questa deliberazione della Civit. Quali sono gli strumenti per consentire questo coordinamento tra il sistema di prevenzione della corruzione e il sistema di performance management? Gli strumenti sono quelli che l'ordinamento ha previsto come mezzi per poter attuare le finalità di questi sistemi e allora il coordinamento deve avvenire in una situazione prodromica con l'utilizzo del PTPC, strumento di declinazione a livello decentrato del sistema di prevenzione della corruzione. Il PTPC piano della performance o relazione professional programmatica per i comuni che non sono obbligati a dotarsi di questo strumento, voi sapete che il PTPC piano della performance come ho messo in nota è stato fuso con l'articolo 3,1 lettera Gbis del decreto 174. Questo PTPC però deve essere predisposto e adattato secondo le indicazioni contenute nella deliberazione numero CIVIT numero 6 del 2013. Questi sono gli strumenti che vengono messi in comune dei due sistemi, ma quali sono gli strumenti che vengono utilizzati? Sono gli strumenti del sistema di performance, cioè il piano e la relazione della performance, ricordatevi, il piano ha attivato il ciclo di gestione, la relazione ha concluso il ciclo di gestione, quindi in pratica piano e relazione della performance devono essere utilizzati in questo coordinamento. Lo SMIVAP, la misurazione e la valutazione delle performance, in quanto le strategie del sistema di prevenzione devono essere declinati in obiettivi del piano della performance. Lo stesso programma triennale di trasparenza e integrità che è un sistema, il terzo sottosistema del sistema di performance management ed è un sottosistema del sistema di prevenzione della corruzione, per cui di fatto questi tre elementi, questi tre strumenti servono per arrivare a questo coordinamento. Le fondi della connessione le troviamo per esempio nel paragrafo 311 del PNA, dove si dice testualmente questo, che si formula un indirizzo alle amministrazioni e si dice che al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di produzione, il PTPC va coordinato con gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e in particolare con il piano della performance PDP. Guardate che questo lavoro credo che molti di voi l'abbiano già attuato, io la racconto quella che è stata la nostra esperienza in itinere, in pratica la dottoressa Schifano lo ricordava nella sua presentazione che quando io per esempio ho frequentato quel corso pilota per responsabile della prevenzione della corruzione, era uno dei miei obiettivi, quella di integrare e coordinare i due sistemi, tant'è vero che poi abbiamo cominciato a lavorare in quest'ottica. Dicevo che il PTPC in otte deve essere strutturato come documento di programmazione con l'individuazione di obiettivi e questi ci sono, gli indicatori, nel PTPC è difficile un po' trovarli, le misure sì, i responsabili sì, la tempistica sì, le risorse è più un discorso che viene rinviato allo strumento di performance. Quello che in pratica ha scritto il PNA, il paragrafo 311 è rappresentato da questa slide, perché? Come avviene questo coordinamento? Gli strumenti di programmazione dell'ente a livello strategico, cioè il programma di mandato, il piano generale di sviluppo, la relazione prevenzione programmatica, il bilancio pluriannale e quello annuale, vengono declinati a livello esecutivo nel PEG piano della performance, il quale deve, come abbiamo visto, interfacciarsi e coordinarsi con il PTPC, perché il PTPC è lo strumento strategico che deve attuare le misure strategiche di prevenzione a livello locale e come tale questo PTPC deve essere strutturato, come dicevamo prima, con l'indicazione degli obiettivi, indicatori, misure responsabili, tempistica e risorse. Il nostro PTPC nell'articolo 33 è riuscito a fondere tutto questo ragionamento, nel senso che nell'articolo 33 noi abbiamo creato un articolo, assegnazioni di specifici obiettivi del PEG piano della performance per l'attuazione del piano della prevenzione della corruzione, dove abbiamo detto che innanzitutto il PTPC è il documento fondamentale per attuare la strategia di prevenzione della corruzione, il PTPC ingloba tutte le misure di prevenzione, non solo quelle obbligatorie, ma anche quelle ulteriori, deve essere coordinato, vedete l'abbiamo scritto nel nostro PTPC, con tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'ente e in particolare con il PEG piano della performance che è lo strumento operativo, diciamo principe del sistema di performance management. Poi, come diceva la delibera numero 6, deve essere costruito un ciclo di performance integrato che abbia quelle caratteristiche a cui ho accennato prima, ma non solo, sempre l'articolo 33 ci dice che il PTPC è lo strumento che deve essere implementato e attuato e devono essere inserite in forma di obiettivi tutte queste innovazioni, queste misure, questi istituti sotto la forma della performance organizzativa e della performance individuale. Viene data importanza alla relazione della performance come strumento di valutazione ex post, vi ricordate valutazione ex ante, valutazione in vitina e valutazione ex post, per verificare i risultati organizzativi individuali raggiunti, ovvero per consentire quell'analisi ex post e cioè analizzare le ragioni e le cause che hanno eventualmente non consentito il completo raggiungimento di determinati obiettivi, individuando le eventuali misure correttive ed eventualmente reiterando certi obiettivi sotto una nuova veste nel nuovo PDO. I quattro strumenti per attuare il ciclo di gestione della performance secondo la deliberazione Civit numero 6 sono il piano della relazione, lo SMIVA, il programma tennale e lo standard di qualità dei servizi che vi dico francamente secondo il monitoraggio della Civit non tutte le amministrazioni stanno attuando, non so che sta succedendo, il PEG è lo strumento di declinazione degli istituti del PTPC e delle bisure di prevenzione quali obiettivi da raggiungere da parte della struttura dirigenziale, quindi il coordinamento vede tra l'altro questo coordinamento, questo ciclo integrato, vede interessare quattro ambiti, la performance, lo standard di qualità, la trasparenza, l'integrità e le misure di prevenzione, sono concetti che vengono ripetuti tante volte. Volevo chiamare la vostra attenzione, sottolineare la vostra attenzione su questa slide, una lettura di questa slide come la lettura del ciclo di gestione della performance che vi ho illustrato prima e in pratica la sintesi di questo coordinamento, guardate, qui noi abbiamo con il colore verde a sinistra il sistema di performance management, ciclo di gestione della performance, a destra con il colore rosso e arancione il PTPC, andiamo a destra, il sistema di performance viene elaborato secondo i tre sottosistemi, il sistema di misurazione e valutazione della performance, il sistema della primarità e il sistema di trasparenza e integrità che ha due colori, il verde e l'arancione, perché questo è un sistema che è comune ai due sistemi, infatti il sistema di trasparenza e integrità è comune anche al PTPC che si compone, come abbiamo visto negli elementi essenziali di misure di prevenzione, di attori, di risk management e ovviamente il sistema di trasparenza e integrità. Il sistema integrato dei controlli interni che è stato elaborato in base al 174, lo troviamo in comune nei due sistemi perché da una parte mira anche a controllare il ciclo di gestione, mentre nell'ambito del PTPC è una misura obbligatoria di prevenzione della corruzione. Che cosa fa muovere questo coordinamento? Guardate la rotella in alto il ciclo di gestione della performance, quindi ritorno a dire quello che ho detto all'inizio, che un sistema per potersi fregiare di questo nome necessariamente deve avere un meccanismo che faccia comunicare i propri componenti, altrimenti non è un sistema ma è un insieme. Focalizzate bene questa slide perché questa vi dà l'idea di come si è voluto disegnare questo coordinamento. A livello pratico adesso ci arriviamo, quindi misure di prevenzione della corruzione, programma triennale della trasparenza e integrità, risk management, standard di qualità devono essere declinati in obiettivi di attuazione del PTPC e si devono trasformare in obiettivi di performance individuale o in obiettivi di performance organizzativa. Il nostro coordinamento manca pochi minuti, avevo preparato una serie di slide per dare l'idea di come noi nella pratica abbiamo attuato questo coordinamento, però alla fine ho optato per delle schede sintetiche relativamente al triennio 2013-2015 con la focalizzazione di alcune schede prese ad esempio. Nel 2013 voi ricorderete il PTPC e il PTT dovevano essere approvati entro marzo 2013, si è arrivato poi con la deliberazione numero 72 ad approvarlo alla fine dell'anno, però noi già avevamo cominciato a lavorare nell'ottica dell'approvazione del PTPC che si è approvato nel nostro Ende il 24 gennaio 2014 e infatti un obiettivo di performance organizzativa è stato il risk management a cui accenerò tra poco. Il risk management è uno strumento che doveva in pratica individuare i rischi e procedere alla sua analisi. Formazione specifica e generica, codice di comportamento, controlli interni di qualità amministrativa, amministrazione, trasparenza, vigilanza presso i siti estrattivi per evitare che potessero utilizzare questi siti estrattivi che andavano ripianati e ritombati con materiale non proprio idoneo. Nel 2014 abbiamo inserito un obiettivo di riduzione dei termini massimi di conclusione del procedimento amministrativo da abbinare al monitoraggio rispetto ai termini e ai meccanismi di sostituzione del responsabile del procedimento in adempiende, abbiamo previsto l'attuazione e il monitoraggio del PTPC in vista del suo aggiornamento, un regolamento per gli incarichi esterni, come vedete molte misure le abbiamo quasi attuali, i patti di integrità e protocolli di legalità, l'utilizzo improprio delle dotazioni strumentali dell'Ende, i controlli sulle prestazioni delle forniture per evitare che ci fossero sovraffatturazioni, in questo caso la nostra misura prevede che ci siano almeno due dipendenti e il controllo sul territorio provinciale delle aziende oggette di autorizzazione. Il 2015 procederemo all'aggiornamento del PTPC, istituiremo l'ufficio del Wister Blower in capo al responsabile della prevenzione della corruzione, una formazione generale e specifica in materia di prevenzione, applicheremo l'integrity management a cui vi ho accennato mediante proprio istituzione del codice, come obiettivo del codice etico del personale e degli amministratori, aderiremo al protocollo di intesa sottoscritto da ANAC e dalle prefetture per l'inserimento dei patti di integrità e protocolli di legalità e faremo una prevenzione molto settoriale secondo le varie tematiche contenute nella cosa. Queste sono delle schede tipo, per esempio l'aggiornamento del PTPC, come noi impostiamo il nostro piano della performance in coerenza con il coordinamento, oltre all'obiettivo indichiamo sempre le fondi che sono oltre alla legge fondi che possono essere nazionali o decentrate, poi riferimento al PTPC o al PNA o alle deliberazioni CIVET, individuiamo se l'obiettivo è di carattere individuale o organizzativo e nella parte inferiore enunciamo il collegamento con il PTPC, cioè quali sono le parti del PTPC o le misure che devono essere attuate con lo strumento. Lo stesso discorso vale per il Wister Blower, però mi premeva un po' andare avanti e parlare un po' di questo risk management che è stato un obiettivo che abbiamo realizzato nel 2013, un obiettivo di performance organizzativa dove il gruppo di lavoro coordinato dal sottoscritto che cosa ha fatto? Ha di fatto, utilizzando la metodologia fornita da Formez, ha proceduto come gruppo di lavoro alla mappatura dei processi dei rischi, alla valutazione dei processi dei rischi e al trattamento dei rischi. Questa operazione che ha comportato queste tre fasi previste nel PNA ha portato il nostro Ende a monitorare sei aree di rischio rispetto alle quattro previste dal PNA, 25 processi monitorati e 87 rischi monitorati. Questo è l'esito del nostro lavoro di gruppo, il risk management è la parte, costituisce la parte terza del nostro PNA e come vedete in pratica la maggior parte dei processi sono, non la maggior parte, tutti i processi sono, tranne uno che è nella zona verde, sono individuati nella zona media. La stessa cosa vale per i rischi specifici, per cui fatta questa operazione abbiamo sempre nel PNA abbinato ad ogni rischio misure obbligatorie o misure ulteriori, ovvero misure trasversali. Che cosa posso dire io a conclusione di questa relazione? Posso dire solamente questo, e cioè che da parte nostra abbiamo cercato di ottimizzare i processi mediante e l'applicazione pratica di questi due sistemi complessi per la complessità delle norme. Ovviamente di difficoltà ci sono state, perché principalmente le sanzioni stringenti che sono previste nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione ci inducono a porre molta attenzione diciamo agli istituti. Però diciamo che a livello personale e di quanti lavorano in questa struttura con me c'è la soddisfazione pur con le difficoltà di contesto che stiamo vivendo e sono veramente inimmaginabili. Basti pensare che la nostra struttura, una struttura giovane composta non da tanti dirigenti, da dieci dirigenti, si è ridotta oggi al segretario o a due dirigenti. Quindi viviamo una situazione che è indicibile, ma stiamo qui a fare la nostra parte perché crediamo che il prestare servizio ad un'amministrazione serve bene o male a dare un significato a quella che poi è la mission del bravo dipendente, del bravo funzionario che nell'ottica dell'integrity management deve emergere e infatti nel nostro PTPC è previsto proprio questa esortazione ai dipendenti e ai dirigenti a divulgare tramite i mass media gli esempi migliori dei nostri dipendenti per cercare un po' di guadagnare anche se abbiamo poco spazio come province nei mass media, guadagnare quella credibilità per la quale noi tutti lavoriamo tutti i giorni. Vi ringrazio. Grazie.